Ho perso la vita a Yorah Del Mar, Federica Squarise, quindi dedichiamo a lei questi primi dischi di questa puntata di Revolution by Night senza aggiungere tante parole perché a volte bisogna soffermarsi e riflettere, quindi lasciamo spazio ad ognuno di voi di riflettere sul motivo per la quale una giovane di 23 anni ha perso la vita per la mancanza di rispetto di altre persone che evidentemente non hanno ben inteso qual è il senso della vita, quindi dedichiamo a lei questo disco che secondo noi è meraviglioso, questo è Revolution by Night, tra poco con Ricky Magilla che suonerà per voi in live DJ set e la voce di Lorenzo Speed e qui in compagnia con noi in studio i due Alex, quindi Kiwi alias Mandarino, Frutto Kiwi e anche Alex China che è qui con noi, quindi se volete interagire con noi i contatti ve li abbiamo detti sono il 349-7267-647 ed anche il 339-195-4439 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti